Paisaggi toscani, 50 anni di fotografia aerea per conoscere il territorio. E' questo il titolo della mostra realizzata da Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana nelle bellissime sale monumentali di Palazzo Strozi Sacrati in Piazza Duomo a Firenze. Tutte le normative sull'urbanistica, sul paesaggio, le verifiche su quello che avviene sul territorio, su come si monitora la trasformazione edilizia e urbanistica di un territorio passa attraverso questo patrimonio che in questa mostra, nella settimana della cartografia europea, abbiamo potuto nei saloni monumentali del Palazzo della Regione, in Palazzo Sacrati Strozi, mettere in questa evidenza. Vedere le nostre città, i nostri paesi, i nostri territori naturali così ben rappresentati attraverso delle foto perfette le caratteristiche in un anno e in un momento determinato e poi evocazione della bellezza di una Toscana che è attrattiva sul piano turistico, sul piano culturale. La mostra, che come ha ricordato il Presidente Gianni, si inaugura proprio mentre a Firenze è in corso la trentesima conferenza internazionale di cartografia, mette a confronto le immagini della Toscana di ieri e di oggi. Visitarla è come attraversare una macchina del tempo. Questo primo volo, un volo a bassissima quota, per avere un'alta definizione, ovviamente le tecnologie erano diverse, fu fatto nel 1975 e lo abbiamo ripetuto ovviamente con strumenti nuovi, ma sempre un volo aereo, nell'agosto del 2021, per tutti i 24.000 km quadri della regione toscana e con questa mostra mettiamo a confronto la Toscana fotografata nel 1975 e quella nel 2021. Su pannelli, tende e tappeti di grandi dimensioni sono raccontati tratti distintivi del paesaggio toscano che passano dalla narrazione di strutture insediative con immagini di città storiche e di piccoli borghi fino alle strutture agroforestali con olivi, viti e castagneti. L'idea di Toscana è racchiusa nel paesaggio toscano e 50 anni di paesaggio vuol dire vedere diacronicamente come cambia il paesaggio, come cambia la Toscana, come cambia l'Italia e questo rende la mostra particolarmente interessante non solo per i tecnici ma per tutti quanti. Promuovere, diffondere, divulgare, far vedere a tutti il paesaggio toscano vuol dire richiamare nel mondo l'idea di Toscana. Il patrimonio fotoaereo di regione toscana è un patrimonio immenso e straordinario, sia per la quantità sia per la qualità delle immagini. Ai 160.000 fotogrammi già custoditi negli archivi regionali se ne sono giunti altre 40.000 in RGB e infrarosso frutto dell'ultimo volo aereo realizzato nell'estate 2021. Questo patrimonio conoscitivo è fondamentale per il governo del territorio. La mostra è organizzata secondo le varianti strutturali cosiddette, ovvero le quattro sezioni che rappresentano l'articolazione del patrimonio territoriale della Toscana, di cui si diceva, mostrando l'evoluzione del tempo, mettendo in confronto le situazioni degli anni passati, del 1975 per gli insediamenti, degli anni 80 per il territorio agroforestale, con la situazione attuale. Quindi questa conoscenza, questa indagare il territorio guardandolo dal cielo, consente di avere quegli elementi fondamentali per scegliere le politiche di sviluppo e pianificazione del territorio, per monitorarne l'evoluzione e gli effetti. Tutto questo patrimonio è consultabile online da chiunque. È sufficiente digitare su qualsiasi motore di ricerca le parole Regione Toscana, Geoscopio e Fototeca.